Sono stati sorpresi nei giardini del Porcinai di via Spinello con in tasca due coltelli a serramannico con lame lunghe circa 7 centimetri. Sono stati così denunciati dalla polizia di Stato. Si tratta di due cittadini magrebini, un 33enne ed un 45enne. È successo ieri pomeriggio quando gli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo hanno trovato i due sdraiati su una iola vicino alla fontana che si trova all'imbocco della strada. Gli agenti, oltre a chiedere loro di alzarsi, hanno poi voluto vedere anche i documenti ma nessuno dei due aveva con sé alcuna carta di identità. I poliziotti hanno poi perquisito i due uomini ed è a questo punto che sono spuntati fuori coltelli a serramannico che ciascuno dei due portava nelle tasche dei rispettivi pantaloni. Entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio contro la persona in materia di stupefacenti e immigrazione dopo il fotosegnalamento sono stati denunciati per aver portato fuori dalla propria abitazione i coltelli e per violazione della normativa in materia di immigrazione. Grazie 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 Grazie